Nuovi attori sulla scena spaziale, Cina e India pronte a sfidare i leader mondiali nell'esplorazione spaziale. Benvenuto nel nostro canale YouTube. Oggi parleremo dell'emozionante sfida spaziale tra due nazioni asiatiche, la Cina e l'India. Entrambe queste potenze emergenti stanno rapidamente avanzando nel campo dell'esplorazione spaziale, pronte a sfidare i grandi leader mondiali nel viaggio verso l'universo. La Cina, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, ha sempre dimostrato un impegno costante per lo sviluppo spaziale, un settore che ha assunto una crescente importanza nel contesto del suo rapido sviluppo economico. Attraverso consistenti investimenti finanziari e risorse umane, la Cina ha messo in atto un ambizioso programma spaziale per raggiungere gli obiettivi di esplorazione e innovazione. Un elemento chiave di questo programma è l'investimento in tecnologie avanzate. La Cina ha sviluppato una solida base tecnologica che include il lancio di razzi, la progettazione di veicoli spaziali e la costruzione di stazioni spaziali. La nazione ha fatto importanti progressi nello sviluppo di razzi a propellente solido e liquido, consentendo il lancio di satelliti e veicoli spaziali in orbita terrestre. La capacità di lanciare con successo le proprie missioni è stata un importante traguardo per la Cina, dimostrando il suo crescente potere nel settore. Parallelamente allo sviluppo delle tecnologie, la Cina ha investito nella formazione di astronauti altamente qualificati. Attraverso rigorosi programmi di addestramento, i candidati cinesi vengono preparati per affrontare le sfide e le condizioni uniche dello spazio. La formazione include l'apprendimento di competenze tecniche, l'addestramento fisico e mentale, nonché la conoscenza delle operazioni spaziali. Questo impegno per la preparazione ha permesso alla Cina di formare astronauti capaci di condurre missioni spaziali complesse e di contribuire all'esplorazione scientifica. Un punto di svolta significativo per la Cina è stata la realizzazione della sua stazione spaziale, denominata Tiangong. Lanciata nel 2021, la Tiangong rappresenta un importante passo avanti nel programma spaziale cinese. Questa è stata progettata per condurre esperimenti scientifici, ospitare astronauti e dimostrare la tecnologia e la capacità spaziale del paese. La sua costruzione è stata un'impresa complessa che ha richiesto una stretta collaborazione tra scienziati, ingegneri e astronauti cinesi. Inoltre la Cina ha dimostrato un forte impegno per l'esplorazione del sistema solare. Ha lanciato con successo missioni robotiche sulla Luna e su Marte, raccogliendo dati scientifici e immagini che hanno contribuito alla nostra comprensione di questi mondi distanti. Queste missioni rappresentano un'importante pietra miliare nella storia spaziale cinese e testimoniano il loro desiderio di ampliare i confini dell'esplorazione umana. In conclusione, la Cina si è affermata come una potenza nello sviluppo spaziale grazie al suo impegno costante, alle tecnologie avanzate e alla formazione di astronauti altamente qualificati. La realizzazione della stazione spaziale Tiangong, il lancio di missioni di esplorazione su Luna e Marte e la cooperazione internazionale testimoniano la determinazione della Cina nel proseguire l'eccellenza nel campo dell'esplorazione spaziale. Il paese continua a guardare al futuro con ambizioni che spaziano dalla costruzione di una stazione spaziale permanente a missioni di esplorazione ancora più audaci. Il suo ruolo nello spazio si preannuncia sempre più rilevante sia per il progresso scientifico che per la sua influenza globale. Prima di proseguire, se il video è di tuo gradimento, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. D'altra parte, l'India, paese con una lunga storia di progresso scientifico e tecnologico, ha dimostrato notevoli risultati nel settore spaziale. Attraverso il suo programma spaziale, economico ed efficiente, l'Indian Space Research Organization, ESRO, ha raggiunto importanti traguardi nel lancio di satelliti in orbita e nella conduzione di missioni di successo. L'ISRO, fondato nel 1969, si è impegnato nel perseguire la ricerca e lo sviluppo spaziale nell'ambito delle applicazioni civili. Negli anni successivi, l'organizzazione ha raggiunto importanti pietre miliari che hanno contribuito alla sua reputazione globale nel settore. Uno dei principali successi dell'ISRO è stato il programma di lancio di satelliti, che ha dimostrato la capacità del paese di mettere in orbita con successo veicoli spaziali avanzati. Con una flotta di razzi di successo, come il Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, e il Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, GSLV, l'ISRO ha dimostrato una notevole competenza nello sviluppo e nel lancio di satelliti artificiali. Il PSLV, in particolare, è stato utilizzato con successo per il lancio di satelliti indiani e internazionali, dimostrando l'affidabilità e l'efficienza del programma spaziale indiano. Ha anche realizzato missioni di grande successo, come la Chandrayaan-1, la missione lunare indiana lanciata nel 2008. Questa missione ha ottenuto risultati significativi, compreso il rilevamento di tracce di acqua sulla Luna. Il successo della Chandrayaan-1 ha posto l'ISRO tra le principali organizzazioni spaziali del mondo. Oltre alle missioni lunari, l'ISRO ha anche condotto missioni di osservazione della Terra con successo. Il suo satellite di osservazione terrestre, il RISAT, ha dimostrato la capacità dell'India di monitorare il territorio nazionale e di fornire dati cruciali per applicazioni come la gestione delle risorse naturali, l'agricoltura e il monitoraggio delle catastrofi naturali. Ha dimostrato anche il proprio impegno per la collaborazione internazionale nel settore spaziale. L'organizzazione ha collaborato con diverse agenzie spaziali di tutto il mondo, compresa la NASA, per realizzare missioni congiunte e scambiare conoscenze scientifiche. Questa cooperazione ha consentito all'ISRO di accrescere le proprie competenze e di beneficiare delle esperienze e delle tecnologie di altre nazioni. Inoltre ha raggiunto un importante traguardo con il suo programma di lancio di microsatelliti. Questa iniziativa ha reso l'India un leader nel settore dei nanosatelliti, aprendo nuove opportunità per la ricerca e lo sviluppo scientifico. L'India, con il suo programma spaziale e le imprese dell'ISRO, si posiziona come una nazione che ha fatto importanti progressi nello spazio, con i suoi successi nel lancio di satelliti, le missioni di esplorazione della Luna, l'osservazione della Terra e la collaborazione internazionale. L'ISRO ha dimostrato di essere una forza da riconoscere nel settore spaziale globale. Guardando al futuro, l'India continua a investire nello sviluppo di questo campo, cercando di espandere le proprie capacità e raggiungere nuovi traguardi. Con la sua determinazione, competenza e spirito innovativo, l'ISRO è destinato a continuare a svolgere un ruolo significativo nella ricerca scientifica, nell'esplorazione spaziale e nelle applicazioni tecnologiche nel settore spaziale. Entrambe le nazioni hanno lanciato satelliti per scopi di osservazione della Terra, telecomunicazioni e navigazione. La Cina e l'India hanno dimostrato un'elevata competenza nella progettazione e nell'assemblaggio di veicoli spaziali, oltre a sviluppare tecnologie per l'esplorazione del sistema solare. Ma la sfida delle nazioni asiatiche non si limita solo all'esplorazione del nostro sistema solare. Cina e India hanno grandi ambizioni per l'esplorazione umana nello spazio profondo. La Cina sta sviluppando un proprio programma lunare e ha già inviato un rover sulla Luna. L'India, d'altra parte, ha recentemente effettuato una missione di successo verso Marte. Esperti spaziali di entrambe le nazioni concordano sul fatto che il futuro dell'esplorazione spaziale sarà una sfida tra le grandi potenze mondiali e queste nazioni emergenti. Cina e India stanno investendo nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative, puntando a diventare leader nello spazio. Con lanci di razzi regolari, missioni su pianeti vicini e ambizioni per le missioni umane nello spazio profondo, Cina e India stanno affrontando audacemente questa sfida. Le loro agenzie spaziali stanno collaborando con istituti di ricerca, università e industrie per promuovere la crescita dell'ecosistema spaziale nei rispettivi paesi. Entrambe le nazioni stanno sviluppando razzi più potenti, tecnologie di propulsione avanzate e sistemi di supporto vitale per rendere possibili le future missioni nello spazio profondo. La Cina sta esplorando l'idea di costruire una stazione spaziale permanente sulla Luna, mentre l'India punta a inviare una missione umana su Marte. La Cina e l'India sono consapevoli che l'esplorazione spaziale non è solo un'impresa scientifica, ma anche un motore per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico. Entrambe le nazioni vedono il potenziale di acquisire conoscenze, risorse e nuove opportunità grazie all'esplorazione dell'universo. Tuttavia, la strada verso il primato spaziale non sarà facile. La Cina e l'India dovranno affrontare sfide tecniche, finanziarie e diplomatiche lungo il percorso. La competizione con altre nazioni per la conquista dello spazio potrebbe richiedere collaborazioni internazionali e partenariati strategici. Nonostante le sfide, la Cina e l'India si stanno affermando come attori chiave nel panorama spaziale globale. Il loro impegno, la loro determinazione e la loro capacità di innovazione stanno attirando l'attenzione del mondo intero. Sia la Cina che l'India sono pronte a sfidare i grandi leader mondiali nell'esplorazione spaziale dell'universo. Rappresentano una nuova generazione di paesi che stanno spingendo i confini della conoscenza umana e aprendo nuove frontiere nello spazio. Non vediamo l'ora di seguire da vicino i progressi della Cina e dell'India nell'esplorazione spaziale e di condividere con voi le loro avventure senza precedenti. Ci auguriamo che questo video ti abbia fornito le informazioni necessarie per comprendere meglio questa sfida alla supremazia spaziale. Continua a seguire il nostro canale per scoprire altre meraviglie del cosmo e restare aggiornati sulle ultime scoperte scientifiche. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio e emozionante e con questo siamo alla fine del nostro viaggio. Qual è la tua opinione in merito? Commenta qui sotto e ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti.